Un saluto gentili telespettatori, benvenuti a Monza-Viareggio, partita valevole per il campionato di Lega Pro Girone A. Il Monza cerca la continuità da provvittare per 3-1 nell'ultimo turno contro l'Atrizium, il Viareggio invece vuole riuscire dalla crisi e si affida al nuovo allenatore Cuoghi per farlo. Giornata soleggiata, campo del Brentino in dischette condizioni, spettatori 400 circa, l'arbitro è il signor Albertini di Ascoli. Prima occasione del match per il Viareggio, siamo al decimo, punizione da 30 metri per gli ospiti, però calciata male, nulla di fatto. All'undicesimo prima occasione per il Monza, combinazione tra Via Corossi e Torre Grossa che serve a propria unità il bomber Colacone, tiro al volo del numero 9, palla alta sopra la traversa, Monza vicino a vantaggio, quattordicesimo, Zazza pericoloso verso rete, grande intervento di Castelli ed è ancora 0-0. Attacca il Viareggio sedicesimo con Cesarini, il tiro del calcettore da scuola toscana è insidioso ma Boscaro sventa la minaccia, è calcio d'angolo, 22esimo Valagussa di prima per Cattaneo, il cross di giocatore del Monza, la difesa del Viareggio è lontana però la minaccia. Ancora Viareggio al 26esimo, i Toscani stanno comandando il gioco, palla per Sorbo, tira botta sicura e ancora un grande intervento di Castelli, Viareggio vicinissimo al vantaggio al 27esimo sempre i Toscani che attaccano, cross dalla sinistra di Berardocco, sforbiciata di Zazza e palla in gol. Viareggio in vantaggio, ha segnato Zazza. Castelli questa volta non ha potuto fare nulla, 32esimo, reazione del Monza, Biso in pallo, prova a sapendere Gazzoli con un pallonetto però la direzione in corner, 34esimo ancora Monza, Valagussa ha servito dalla destra, cerca il tiro del pareggio e è incrociato ma non è letale e Gazzoli para a terra la minaccia. 35esimo minuto, in attacco ancora Viareggio, para per Cesarini, il tiro del calciatore, Castelli si supera evitando lo 0-2, che gran parata di Castelli. 37esimo con Lacuna in aria, avanza l'attaccante del Monza, messo giù ma per l'arbitro del Bertini è tutto regolare, niente rigore per il Monza. Siamo al 41esimo, lancio di Bisopertore grosso in aria, palla troppo lunga, nulla di fatto. E dopo un minuto di recupero finisce primo tempo, Monza 0, Viareggio 1, decide. Finora una rete di Zaza al 27esimo minuto. Con gli elites passiamo la ripresa, contro il piede del Viareggio, palla per Zaza, il tiro del giocatore è alto, sopra la traversa. Undicesimo, Cattaneo verso il centro, il tiro però del difensore del Monza finisce alto, sopra la traversa. Dodicesimo, gran palla di Jacopino per Colacone. Il destro del bomber biancorso di prima, palla di vetta in angolo da Gazzoli con la punta delle dita, Monza vicino all'1-1. La squadra di Motta crede nel pareggio. Diciannovesimo, attacca il Viareggio, palla per Zaza. Tiro e gol, 2-0. Ancora Zaza, Castelli battuto, assist di Cesarini, doppietta per lui, 0-2 Viareggio. Manca un quartatore fino al match e il Monza prova a rientrare in partita. Palla con Colacone, fa da sponda. Arriva da Matta, tiro e palla rispinta. Cogliela al 35esimo. Cesarini a torre della prova del corniciare. Ancora lui, gran destro e gol dal limite, 3-0. Partita chiusa per il Viareggio. Quarantunesimo, Monza cerca il gol della bandiera. De Matta serve in profondità. Torregrossa, palla però troppo lunga per il numero 11 biancorosso. E dopo 3 di recupero, triplice fisco di Albertini. Monza e Viareggio finiscono 0-3. Doppietta di Zaza e Rete di Cesarini che fanno esaltare i Toscani.